con il personaggio del torneo san azzaro una persona che voi tutti apprezzate qui al campo al quale date ogni euro che i vostri genitori vi danno e peppe cernicchiaro conosciuto esatto ecco ecco la sua perla due parole per gullo peppe senti qual è la frase che preferisci dire a francesco trinchillo e lo devono mangiare guardate che guardate che showman per i capelli rosa alla palacio che fenomeno fai con nella porticina vediamo se possiamo chiudere ehi grazie 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 grazie